un altro appuntamento con il resto conto che vi facciamo puntualmente del nostro tour in per Italia il tour del Samsara in questa tappa vedremo cos'è accaduto al Demoday di Modugno siamo rimasti praticamente in zona siamo rimasti a casa nostra in Puglia e devo dire che è stata una grandissima serata molto divertente e lo facciamo proprio da qui vedremo queste immagini proprio dal Samsara e da una delle tante domeniche che stiamo vivendo insieme domenica di aprile ancora e già con tantissimi amici che vengono a trovarci vediamo cos'è accaduto quindi al Demoday di Modugno ah dimenticavo sono già disponibili le nuove t-shirt del Samsara e yes your endless summer con il nostro claim di quest'anno sono fantastiche e io ne ho già rubata una come c'è accaduto come c'è accaduto e come c'è accaduto Volevo fare un saluto agli amici del Modena e amici di Poli! Vi voglio presentare quest'anno per amici due componenti della Leipzig del Zanzana Pitch il maestro Luca Pomino e Sergio Silvestre! Inghilva Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Una tappa molto rilassante, tra virgolette, nel senso che eravamo in Puglia, eravamo vicini in questo appuntamento al Demodè di Modugno con il Samsaron Tour che abbiamo appena visto. Io sono qui al Samsara, continuo nei beach party ogni domenica. Ci trovate praticamente qui da adesso fino a novembre. Insomma, saremo qua pronti ad accogliervi con la nostra energia, con la nostra carica e ovviamente con tutto il contorno del Samsara Beach con questo fantastico paesaggio. Io vi saluto e vi saluto. Io vi saluto e vi ricordo i nostri contatti ufficiali facebook.com slash Samsara Beach e c'è anche il nostro nuovo canale Live Periscope più Instagram. Insomma, è tutto quello che è il mondo social del Samsara. Ci ritroviamo sempre qua. Ciao!